Stefano Buscaglia, allenatore del settore giovanile del Montanaro, tua prima esperienza, la affronti come al solito conoscendoti con grande entusiasmo? Un plauso va alla società perché ti fa lavorare in maniera molto seria e tranquilla, quindi essendo per me una prima esperienza mi trovo veramente divinamente. Il gruppo è chiaro che c'è, bisogna lavorare, non è facile però c'è un mese e 20 giorni prima dell'inizio del campionato delle categorie allievi, quindi cerchiamo di mettercela tutta. Il mio obiettivo è quello di fargli fare le cose qualcosa in più, anche se non sono tanto adatte alla loro età, ma fare un cambio di passo e questo gli serve sia mentalmente ma anche dal punto di vista fisico-ataletico. Conoscendoti, sei uno che quando si prende un impegno lo prende con molta serietà e l'abbiamo visto anche negli elementi, come rispondono i ragazzi? Rispondono con un po' di difficoltà, è chiaro che il periodo estivo io l'ho preso in mano un mese e mezzo fa e non hanno potuto fare la preparazione atletica estiva, quindi quello è un handicap iniziale. Stanno rispondendo, ripeto ci vuole ancora un mese e 20 giorni, stiamo venendo tutti i giorni, mentalmente rispondono bene ma deve uscire un po' la personalità e gli attributi come si suol dire. Stefano, un obiettivo che ti sei fissato per questa prima stagione, per questa tua prima esperienza? Guarda, io dico sempre, non voglio essere banale, si va in campo ovviamente per vincere ma per giocare bene, per fare spettacolo e si va in campo io dico sempre per osare, perché bisogna osare. Poi si fa un bel lavoro, si arriva a primi, secondi o terzi, ovviamente non sotto perché vuol dire che si è lavorato male, ma bisogna osare. Quindi lottare su tutti i palloni fin dall'inizio? Certo, al primo minuto, questo richiede ossigeno, infatti questa settimana qui abbiamo fatto un lavoro di ossigeno, un lavoro anche di velocità a livello muscolare, un lavoro di esplosività. I 30 minuti di gradoni, certo che sono pesanti, però danno ovviamente l'esplosività. L'ossigeno si ripetono anche a volte gli 800, i 1000, anche i 10 volte, però possesso palla, movimento in campo, è veloce, richiede ossigeno. Per essere freschi sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Certo, prima si ragiona con la testa, poi si ragiona con i piedi, ma questo è garantito anche nelle altre categorie, è sicuro quello.